Ciao a tutti da Natashtag, hashtag topissimo, hashtag in televisione insegnano a lavarsi le mani, hashtag tutorial Adamo e Deva, hashtag come mangiare la mela, adoro, topissimo, hashtag adoro, hashtag ho preso una cover topissima per il mio covid-19, hashtag se vedi mica si è uscito un aggiornamento, hashtag a settembre c'è il covid-20, adoro, topissimo, hashtag in diretta dalla casa circondariale, hashtag solo per voi, hashtag è scappato corona, hashtag ma no il virus, hashtag dalla corona alla scopa c'è finita peggio di cenarentola, hashtag i nuovi dieci comandamenti, hashtag ci avete tolti i baci e gli abbracci, hashtag una cosa non ce la toglierete, il biscottone, hashtag topissimo, alla prossima puntata, perché l'hashtag è contagioso?